Bebs, Bebs, Giuseppe Borsi a Grassano e la sua città, grande Bebs, ci sei sempre, il pieno centro di Grassano, e ti sembra un po' da giù, proprio pieno no, insomma, beh ma non faccio un video Marco, ma fa però un sorriso normale da persone, con le dolomiti lucane con la neve laggiù, che non si vede niente, c'è una bella giornata di sole, eccoli, saluto, quelli sono gli appennini lucane, ah e le dolomiti lucane sono laggiù, eccole, pietrabertosa, guardate quelli di piante aolice, mitico mitico, Grassano capitale del mondo, Grassano come città del Messico, e lì, impastora le mani, super pebs, Grassano, ciao!